Sono Francesca Federzoni, presidente di Politecnica, una società di ingegneria e architettura che opera a livello nazionale. Insieme ad Arup Italia, una società la cui valenza è internazionale, abbiamo deciso di provare all'interno di un patto fra studi di progettazione lanciato da NCPL e Lega Coop nei primissimi mesi dopo il sisma, una progettazione integrata a livello di area vasta in modo tale che si possa riportare esperienze internazionali fatte da Arup in Cile anche a livello del sisma emiliano-romagnolo e incentrare la progettazione di area vasta su tre temi fondamentali, la sostenibilità, la partecipazione della cittadinanza e la progettazione multidisciplinare.